È un Natale un po' diverso dagli altri ma non meno importante per i piccoli gesti che possono fare la differenza. Cittadini di Agropoli, Castellabate, Canalonga, Casalvelino e Vallo della Lucania hanno voluto contribuire alla campagna Natale Contaggioso organizzata dall'Associazione Gabriel Little Hero per continuare a sostenere i progetti di speranza. Quella speranza che noi tutti non abbiamo mai abbandonato nonostante il momento che tutti stiamo vivendo ma che ci fa stare bene se il nostro gesto contribuisce a fare sorridere qualcuno, a farlo sentire importante, meno solo anche donandogli un semplice panettone. Non sono i numeri che contano, né quanti panettoni sono stati venduti ma con che spirito sono stati comprati. Donna serenità il sorriso che vediamo negli scatti di Laura Capaldo, operatrice Osa e collaboratrice delle cooperative assistenziali Iobel di Vallo della Lucania e Venere di Agropoli. Il cuore grande ed altruista di Enzo Berardi e tutti i cacciatori del Cilento che con la loro raccolta fondi hanno donato i panettoni agli ospedali di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri ci fa capire come un gesto di riconoscenza può valere tanto per chi in questo momento è impegnato in prima linea e non conosce orari, famiglia, festività. Sono i sorrisi dei ragazzi del supermercato di meglio di Agropoli e del proprietario che ha voluto donare il proprio panettone al carrello solidale, un carrello che contiene tanta generosità. È l'impegno dell'associazione Avis di Agropoli che è scesa in campo per sostenere l'iniziativa e poi ci sono tante altre persone che ascoltando il racconto del piccolo Gabri e perché fosse così importante sostenere l'associazione con un piccolo gesto non hanno esitato a comprare il panettone. Qualcuno di queste magnifiche persone non avrà il piacere di assaggiarlo perché preferisce donarlo a chi purtroppo è stato meno fortunato. I cittadini di Agropoli e del Cilento ancora una volta hanno dimostrato quanto sono capaci di sprigionare amore, condivisione, generosità, altruismo, sensibilità. È nel dare che riceviamo. Grazie a tutti voi. Grazie ai cacciatori del Cilento. Buon Natale. Buon Natale. Bravissimo.